Buongiorno a tutti, sono Rossi Tutoro da Brindisi. Sono contento di essere in questo percorso di giovani promesse. Diciamo che per me è un'emozione importante perché è una cosa di tutti i ragazzi di oggi partecipare a queste giovani promesse. Speriamo di dare un futuro a questi ragazzi in un campionato nazionale. Insomma, ho 13 anni. Il mio ruolo sono più ruoli. Faccio il trequartista, primo punto esterno, attaccante.